Ben ritrovati amici delle Pianeta Hockey a rotelle dal canale 96 e da Stefano Baderini che vi parla ringrazio come sempre il collega vice direttore Paolo Caselli che con me ha contribuito a pianificare intanto l'edizione testuale di Pianeta Hockey che è leggibile su www.firenzeviolosupersportlive.it.com e ringrazio Enrico Milano che al termine di questa emissione di questa mattina giovedì 28 marzo 11 e 23 per i nostri canali social Facebook e lo YouTube di Firenze Viola Supersport mi prenderà e mi riediterà quando mi vedrete in video sul canale 96 questa sera alle ore 20 e allora andiamo a vedere immediatamente di che cosa costa la nostra puntata dobbiamo festeggiare il Forte dei Marmi che dopo quattro squilli inutili nelle passate edizioni finalmente si porta a casa la Coppa Italia batte a Forte dei Marmi nel suo palazzetto dello sport per 2 a 1 il Folloni con un appassionante derby toscano che ha deciso la giudicazione della Coppa Italia a 1 del 2023-2024 e dunque è stato tutto un weekend dedicato alle finali forte campione per cui sfatate le ultime edizioni sfortunate Forte dei Marmi che scaccia la maledizione alza la sua terza questa è la terza Coppa Italia portano a casa anche negli altri campionati le Coppe Matera Biareggio e Trissino e allora andiamo a ripercorrere questo weekend appena passato quattro grandi città di lunga tradizioni vincono le quattro Coppa Italia la Coppa Italia di Serie B partiamo dalla prima delle partite è stata alzata dal Trissino che ha vinto la finale per 6 a 3 l'ok Pico aveva iniziato con più decisione la sua finale andando in vantaggio ma poi è arrivato la risposta del Trissino che ha prima pareggiato e dopodiché ha cominciato piano piano a staccare la sua competitor vince anche il centro giovane calciatore di Biareggio che conquista praticamente quasi in casa a Forte dei Marmi a due chilometri da Biareggio e si conquista la Coppa Italia di Serie A 2 vincendo contro la Docker Roller la Decom Roller Matera primo tempo di marca solamente bianconero frutto di una prestazione davvero chirurgica in attacco e da ottima performance del portiere Gomez e della propria difesa e dunque ehm la bella vittoria del Biareggio dall'uno cinque con il cinque a zero parziale del secondo tempo Biareggio porta a casa la Coppa Italia nella puntata testuale di pianeta occhi a rotelle ci sono tutte le foto che abbiamo potuto prelevare grazie a fisre punto it e poi eh la Decomer Roller Matera vista la Coppa Italia conquistata a Trissina con un'altra solida e precisa finale questa volta contro l'eterna rivale Valdagno e dunque quattro a zero firmato dal tiro diretto di estrema qualità del suo fuoriclasse Bertha Tarrida Castronaro col tiro in aria riduceva il gap ma ancora l'attenta attaccati è abile nello stretto in mezzo all'aria finisce e per sei a uno seconda Coppa Italia portata a casa e poi eccoci qui qui dobbiamo ovviamente parlarne due minuti in più toccava infine alla super finalissima di a uno scaccia finalmente la maledizione in centro a Porcio e Firenze e Versilia ok forte che al quarto tentativo riesce ad alzare la Coppa Italia e portandosela a casa davanti al proprio pubblico era stato un vero e proprio tabù nelle tre edizioni precedenti nella storia questa è la terza Coppa Italia della storia rosso-blu conquistata davanti a circa 1500 persone ovviamente tutto super esaurito una finale di Coppa giocata ultimamente sotto il profilo tattico da entrambe le squadre che a tratti sono state anche speculari i dettagli hanno deciso la partita e per il forte marmi e precisamente due tiri da fuori aria che hanno colpito lo slot avversario decidendo di fatto la finale i suoi i due portieri Gnata e Barozzi sono stati tra i migliori in pista anche quando nel primo tempo hanno neutralizzato un tiro diretto a testa dopo il cartellino blu ricevuto a testa consorzio maremmano cave follonica che però nel primo tempo ha faticato oltremodo ad entrare in area versiliese la manovra dei padroni casa ha permesso di entrare di arrivare più spesso al tiro anche se il gol del vantaggio di che co compagno ha perforato la gabbia di Barozzi dalla media distanza anche nella ripresa il forte alzava la prestazione difensiva livelli altissimi e solo dopo un time out Sergio Silva trovava lo schema per aprire la difesa rosso blu col doppio giocatore in aria ed era Davide Banini a trovare la ribattuta vincente ma l'attimo fuggente lo coglie lo coglieva lo accolto il centro porci Firenze dopo solo otto secondi dal pareggio maremmana Eric Thorne si involava da sinistra e scagliava un tiro dalla media distanza che Barozzi non riusciva a bloccare gli ultimi dieci minuti sono altrettanti intensi ma il sangue freddo del rosso blu padroni di casa prendeva lentamente il sopravvento a quattro dalla fine Turner falliva un calcio di rigore un tiro di rigore negli ultimi secondi nemmeno la superiorità in pista non riesce a scalfire il 2 a 1 che rimane il risultato finale ed accende la festa del palaforte le foto nella nostra puntata testuale ed anche prelevate per l'edizione televisiva delle otto una grande prestazione di tutti i ragazzi in pista spiega l'allenatore Alessandro Bertolucci il sacrificio nella gestione della gara ha fatto la differenza è stata una grande partita per il forte marmi commenta il capitano Riccardo Gnata la tensione era davvero altissima avevamo delle defezioni ma nonostante tutto ciò abbiamo saputo giocare con grande intelligenza la dedica è tutta per questa città e per i nostri impagabili tifosi allora andiamo a vedere i numeri di questo weekend della Coppa Italia a Forte dei Marmi allora la 2 dove la semifinale 1 vedeva Amatori Modena 1945 decomo e Roller Matera 2-5 di Adema Oche e Roller Bassano centro giovani calciatori di Reggio 3-4 la finale non aveva davvero storia centro giovani calciatori Decom Roller Matera 10-1 poi la Coppa Italia di A1 Ochei Tristino mare in mano cave folloniche semifinale 1-1-5 centro Porsche Firenze Versilia Ochei Forte Wosk & Lodi la vittoria per 3-2 di questa bellissima semifinale poi nella finale ripeto centro Porsche Firenze Versilia Ochei Forte Consorzio Maremmano Cave Follonica 2-1 infine la finale di Coppa Italia di Serie B la finale ha visto l'Ochei Tristino battere l'Ochei Pico della Mirandola 6-3 al supplementare per cui questa è stata la vittoria della Serie B infine il programma è stato chiuso dalla Coppa Italia femminile nella finale Decom Roller Matera Ochei Valdagno 1-6 e allora l'albo d'oro della Coppa Italia di A1 viene firmata questa quest'anno dal Forte dei Marmi che va a seguire il la Coppa vinta nel 2022-23 dal Tristino ancora prima dalla gamma Innovation Sarzana la Coppa Italia femminile Roller Matera che si raddoppia aveva vinto anche lo scorso anno due anni fa doppietta del Valdagno la Coppa Italia di A2 di Areggio su ventralbreganze che l'aveva vinto l'anno scorso preceduta dalla vittoria del Tristino Ochei nel 2021-2022 l'albo d'oro della Coppa Italia di Serie B nel 2020-21 Vercelli 2021-22 Modena 2022-23 Pumas ancora a Viareggio 2023-24 Tristino Ochei si tornerà a giocare dopo le festività di Pasqua il 6 aprile sarà il penultimo turno della regola season che comunque ha già visto nel tabellino il 10 a 0 a tavolino del Follonica sul Vercelli che non c'è più riprenderemo con Centro Porsche Firenze Versile Ochei Forte Team Service Carmonza Sandrigo Bassano Breganze Sazzana Lodi Giovinazzo Tristino Grosseto Montebello Valdagno si ricomincerà con questa classifica che vi ricordo Centro Porsche Firenze Versile Ochei Forte 61 un punto di vantaggio sul Tristino 60 Consorzio Maremmano Cave Follonica 53 Gamma Innovation Sazzana 51 più staccato Lady Fox Grosseto in quinta piazza punti 43 Lodi 42 Valdagno 35 Montebello 30 Sandrigo 28 Bassano 27 Team Service Carmonza 20 Breganze 16 Giovinazzo 12 Engas Vercelli che è sparito dal campionato si è ritirato 0 punti tutte le squadre che nel girone di ritorno se la dovevano vedere con Vercelli hanno avuto hanno avuto partite vinte a tavolino 10 a 0 poi andiamo a vedere quelli che sono stati gli ultimi risultati della 2 girone B si è giocato il 16 la giornata numero 11 ve la ricordo Versilia Ochei Forte Sazzana 5 a 2 Castiglion della Pescaia Follonica Ochei 4 a 5 Roller Matera Star Treet Rizzo Costruzioni Prato 8 a 6 Camaiore Salerno 6 a 3 Centro Giovani Calciatori Viareggio che vince nello straderby cittadino contro la Farma e Pumas Ancora Viareggio 9 a 0 in testa il Centro Giovani Calciatori Viareggio 28 Rutellistica Camaiore 25 Farma e Pumas Ancora Viareggio 22 insieme al Follonica Ochei a 19 Matera 11 Scalinone di 8 Versilia Ochei Forte 10 Star Treet Rizzo Costruzioni Prato a 9 Salerno a 6 Castiglion della Pescaia a 3 Gamma Innovation Sazzana Ricordo anche gli ultimi accadimenti del campionato di Serie B Girone D che ha giocato il turno del 24 di marzo Blue Factor Castiglion della Pescaia Versilia Ochei Forte 7 a 4 Camaiore Viareggio Ochei 6 a 3 Centro Giovani Calciatori Viareggio Grosseto 6 a 4 qui comanda Blue Factor Castiglion della Pescaia punti 21 Viareggio Ochei 13 Rotellistica Camaiore 12 insieme al Versilia Ochei Forte e insieme al centro Giovani Calciatori di Viareggio Trio a 12 punti a 9 Grosseto un punto solo per il Super Glanz Prato lo sponsor della squadra di Serie B della città Laniera allora questo è la puntata dedicata alla vittoria in Coppa Italia del Forte dei Marmi su Follonica per 2 a 1 abbiamo fatto il punto di tutto ciò che è accaduto tra sabato e domenica al palazzetto dello sport di Forte dei Marmi che ha visto due eh tutto esaurito uno accanto all'altro come ovvio che sia poi abbiamo fatto il punto di tutti gli altri campionati abbiamo ricordato risultati e classifiche adesso noi vi lasciamo io vi lascio mi preleva Enrico Milano dalla regia vi monta la trasmissione con immagini con le foto le dichiarazioni che voi vedrete quando mi sentirete darvi saluti questa sera giovedì 28 marzo dalle ore 20 in poi tutto preceduto da immagini delle partite di Coppa Italia prima tutto preceduto tutto seguito poi dalle immagini dai dalle varie piste dei nostri campionati di hockey a rotelle da Stefano Ballerini Paolo Caselli Enrico Milano e tutto la linea torna alla programmazione del canale 96 buon hockey a rotelle a tutti ci sentiamo domani mattina per ricordarvi tutto ciò che succederà su tutti i campi di gioco della nostra super redazione di Firenze Viola Supersport Live punto it punto com lunedì una prima sverniciata di risultati e classifiche l'appuntamento dell'occhio a rotelle in versione integrale è come sempre ogni giovedì alle ore 20 buon hockey a tutto lì nella regia